benvenuti alla nuova puntata di tassa di caffè oggi con noi ensi e nerone e brava gente grazie grazie per essere qui benvenuti siamo molto emozionati e sinceramente onorati per questa cosa davvero 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 anche perché ci stavano dicendo prima che siamo siamo veramente fan noi quindi cercheremo di non fare i fanboy in questa intervista intervistatori istituzionali e cercheremo istituzionali come state intanto bene bene grazie istituzionalmente bene direi istituzionalmente bene ok avete appena finito il tour giusto per quello siamo bene stanchissimi però siete stanchi ma contenti cazzo sì da quanto l'avete finito l'avete fatto a roma 4 giorni quindi immagini i giorni subito dopo il tour vi state cercando di riprendere immagino state sì o state già lavorando per ci sono un sacco di cose da fare poi comunque in tour ci vai pressoché il weekend no quindi è tutte quelle cose che poi fai il weekend che di solito fai nel weekend che poi non le fai tipo dentro casa ah ok garantelle che devi sistemare quindi ora ho un po di ok vedi bene arretrato ora c'è la vita noi a volte invece andiamo più in tour in settimana perché nel weekend negli stessi posti fanno i concerti quindi ci diamo il cambio capita un botte di diamo il cambio io guardo i tour vostri o comunque degli dei comedian se avete fatto si quelli avete fatto lo snodo a roma sì anche si poi a bologna avete fatto locomotive sì ok si abbiamo fatto giardini luzzati a genova che non l'ho fatto però si fanno stand up anche lì ricorda le altero ma l'ha scritto guarda che ho visto mi avevano spostato la data poi ho visto la vostra ho capito perché me l'avevano sbostata tra l'altro io ci vado tra poco lì quindi sì proprio non possiamo essere amici comunque no ok possiamo essere amici ma non usciremo mai insieme per il weekend tu sei libero io no è vero è vero è vero è vero possiamo essere amici settimana noi dobbiamo sistemare tutto il caos che c'è in casa e quindi è vero e noi puliamo casa il weekend cosa dite voi quando siamo in giro a suonare fare spettacolo noi non suoniamo loro non fanno spettacolo sono due eufemismi in entrambi i casi è vero è vero però io partirei anche da questa cosa qui che comunque voi siete fan della stand up e siete anche legati al mondo della stand up perché a parte che noi ci siamo visti l'altro giorno che allo spettacolo di francesco de carlo che salutiamo bella francesco anche al concerto di concerto e voi andate spesso a vedere stand up cioè vi capita ok sì 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 da tempo in memoria io che credo che le prime robe che ho visto a milano le ho viste allo sloan ci ho visto saveio raimondo allora proprio la prima scena milano avevamo visto insieme ravenna la anche ti ricordi insieme le prime tra i nostri amici del rap siamo stati quelli della prima ora proprio a scoprirvi e io mi ricorderò per sempre quando ho visto i ragazzi satiriasi che c'era lo trasmettevano su sky lo davano sì io sono rimasto così ho detto si può fare anche qua cazzo non vedevamo l'ora c'è la musica a fare freestyle ma poi è un mondo super connesso cioè in america comunque c'è la def jam che fa sia i comedy sia la zona comedy che la zona raccola musica sono usciti da là capito cioè martin lawrence però ci sono dall'altra parte i rapper capito cioè il sogno è una realtà unica di tutti che andiamo a suonare nei post insieme esatto dave chapelle organizza date così è sì dove c'è tipo nas lui guarda casi sui amici sono nas e jc capito sì esatto esatto voi avete noi però come amici quindi comunque ce li teniamo male non va esatto 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 ma comunque c'è in america queste due scene sono collegate ma voi io sapevo anche che forse tu so che hai provato anche a fare stand up non so di se tu hai mai provato ok ci ho provato a farglielo fare c'era praticamente io sono noi siamo amici di filippo giardina ok tra il mio testimone di nozze fai su un ufficere di nozze bellissimo tra l'altro è stato qui e salutiamo anche lui che siamo proprio super amici lui aveva organizzato un come si dice un workshop bravo grazie non mi stava venendo la parola un workshop di non comici e due aspiranti comici un uomo e una donna nei non comici c'eravamo io che ho provato anche a tirare lui ma lui aveva degli impegni di musica mi sa che non c'eri proprio a milano nitro e altri amici nostri axos quindi abbiamo fatto questi due giorni dove lui ci insegnava a costruire sostanzialmente un piccolo monologo durava due minuti ok però io sono uscito da secchione della classe quindi lui si è fatto lo sbattimento di prendere un altro treno poi più avanti venire da me a implementare il mio monologo da farlo durare tipo sette minuti e poi l'ho aperto a brescia quando si è esibito io ho fatto l'open hai fatto con l'apertura e quella è la tua prima esibizione come era andata bene mi sono ricordato tutto la gente ha riso benissimo hai trovato differenza fra l'ansia fra prima di un concerto e l'ansia prima di un pezzo di stand up no è la stessa la stessa roba con la differenza di l'ansia della prima volta ok giustamente capito che c'era in più certo stavo andando a fare una roba che non è proprio la mia certo certo però se mi immagino uno portato per fare sta roba è sicuramente mio fratello max cioè è una delle persone che fa più ridere nel mondo per quanto mi riguarda veramente tra l'altro una cosa che dicono cioè non sei la prima persona che me lo dice cioè che lui quando mi parlano di rapper che potrebbero fare stand up cioè me lo dicono uno dei primi e poi abbiamo anche mai che dicono un rapper che potrebbe spaccare un sacco di soldi un rapper che potrebbe diventare la stand up capito un rapper che potrebbe cambiare carriera lui lui grazie ragazzi grazie però posso dire se a me mi dicono smetti con la stand up prova col rap non so forse mi dispiace per la stand up però sarei felice il sogno che avevo da ragazzino era il rapper poi è arrivato alla stand up ma hai provato a rappare anche sono rimasto nella mia cameretta le canzoni però si 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 a tempi ascoltavo la roba vostra cioè parliamo di primi anni 2000 quindi one mic sotto la cintura quindi roba mia no avevo 12 anni eh no esatto no no infatti non è non è che io avevo già 10 anni di contributi dallo stato io avevo l'estate io avevo dallo stato non allo stato ah ok oggi stavo ripensando alle prime cose che ho sentito di one mic mi sono ricordato che la prima cosa che ho sentito era in avevo precomprato da bomb e c'era la completion in master five e c'era note jets sì sì ed è la prima volta che ho sentito un amico pazzesco veramente ed era preistoria per noi anche io ero ero minorenne io probabilmente sì ma infatti a riascoltare quei dischi che cazzo cioè avevate eravate minorenne e non le avevate sentite da nessuno quelle cose come cazzo e poi conta questa è l'unica parte di fanboy quella smetto c'era della foresta in quegli anni non è che lo faccio vivere non è che ci andavi a sbattere contro per sbaglio e dice ok c'è la parvenza che questa roba costruiamo qualcosa per nessuno ma anche per quelli che erano anche per me raga no 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 bro anche dopo arriva quando abbiamo cominciato noi non è che abbiamo detto ah minchia facciamo il grano capito non c'era i pop tv non c'erano le date grosse c'erano solo le gem però bello vedere quelli sul palco vedere loro decade prima ancora peggio voglio dire quindi immagino se un costruir questo c'è un po il parallelismo con la nascita della scena della stand up che c'è si vede un po l'underground della cena per l'underground del rap si sono un po sviluppati secondo me in modo simile cioè lo stesso modo noi ripensiamo agli anni che abbiamo iniziato diciamo non c'era nessuna prospettiva neanche nella prospettiva ottimista potevi pensare a fare dei soldi con c'era luca ravenna che faceva sold out nei teatri enormi c'era luca ravenna ma non era ancora era già luca ravenna eravamo in quegli anni lì esatto sono andato allo stesso teatro dove c'era dei carlo ho visto anche luca ravenna era pieno ed era doppio spettacolo io sono contento per voi in maniera genuina perché cazzo è uno specchio di tutto non solo della comicità che mi piace ma anche di temi che vengono affrontati in una certa maniera questo un po parallelismo anche con la nostra musica cioè comunque di base c'è sempre delle riflessioni dietro questo è quello che mi piace della della stand up anche io l'ho di una domanda da fare a voi a questo punto assolutamente fate fate la vostra roba la fate bene partite all underground vi evolvete e poi arrivano quelli di instagram e tiktok ok sì che fanno delle date clamorose giganti un botto di gente sì no anche noi abbiamo ricevuto un po questa inculata qua ok quindi comunque abbiamo questo parallelismo ce l'abbiamo anche noi no però come va secondo me c'è il fatto sia nel nostro caso che nel vostro che spesso quelli sono fenomeni un po che c'è tipo se uno esplode su tiktok magari riesce a vendere biglietti per un po ma non è una roba che dura nel tempo cioè comunque diverso spesso e credo sia uguale anche nella musica lo dicevamo dieci anni fa sperando fosse vero vendono ancora più di noi non è vero una delle mie frasi preferite era il tempo è un setaccio bro le cose più grandi rimangono in realtà la maratona non i 100 metri che è quello che diciamo noi adesso è tutto verissimo però è tutto nessuno ha fatto i 100 metri c'è una maratona molto più lunga del previsto e tutti stanno facendo i loro chilometri ok allora io sono maratona 100 metri alla volta facciamo da questo punto di vista sono molto un un romantico cioè nel senso che c'è vero vedo persone che magari hanno fatto il botto su instagram eccetera all'improvviso fanno un tour eccetera è molto spesso non giudico perché sono veramente obbligati dal mercato e sono in modo diverso vittime anche loro di altre dinamiche diciamo che se quando perché molte di queste persone poi le conosciamo e molte di queste persone trattano questa cosa comunque con rispetto e sono consapevoli del fatto che stanno bruciando tappe quindi comunque se vedo che dietro le quinte tratti questa cosa con rispetto ci sta esatto esatto però voi secondo me avete una sfiga in più di noi con il fatto che voi non avete il playback sì cioè tu non ti puoi registrare lo spettacolo sul palco e poi muovere la bocca questo è anche vero mentre il ferro di tiktok se sale col suo pezzo è andato forte su tiktok e lo balla senza dire un cazzo funziona questa è una sfiga che avete più voi però la gente torna perché questo lo stavo per dire se non è bravo veramente lo vedi se uno si suona anche noi da noi si vede però non ce ne frega un cazzo ok questo è tutto nella discoteca con mille ragazzini che vogliono cantare quel pezzo non la performance ha perso quella valenza nel rap è stata tanto ha sdoganato ormai questa cosa cioè anni fa non c'era però c'è anni fa comunque c'era la differenza fra chi cantava e chi non ora è tanto ha sdoganato sì ma si vede comunque dal fatto che qualcuno fa un tour in un posto dove la gente compra il biglietto perché ci sei tu come c'è solo tu capito affitta il posto da 3.000 persone compra il biglietto vanno a sentirti l'altro magari fa 40 date in più di questo qui però le fai nei club della provincia di cuneo sì il posto è già pieno perché c'è solo quello tu arrivi fai la tua roba qualcuno sa chi sei qualcuno no tu ti sei fatto comunque un sacco di soldi ma non farai mai un concerto sì dove vendi dei biglietti perché ci sei tu capito è vero è vero sono due robe diverse tutti guadagnano in modo diverso è un lavoro un po diverso un lavoro un po diverso credo alla fine che se tu hai il tuo percorso ed è solido e lo costruisci alla fine non è che questa cosa può danneggiarti può darti un po no può essere un po il dente che ti fa male dici che palle porco due vedi alla fine se vai dritto per la tua strada e con solidità costruisci qualcosa che che poi ovviamente a riscontro ottieni non è detto che una cosa all'inizio debba escludere l'altro cioè se sei bravo sul palco e poi hai anche le canzoni che nei club vanno forte ti fai il doppio tour cioè la super grattata della vita in un anno fai 150 concerti ti sei comprato la casa però poi se ci fai caso quelli che poi vanno a fare i posti grossi che fanno i forum e poi nei club il tour non lo fanno più mai no basta diventa quasi sposizionante ma come mi torni in discoteca è certo l'astronascente ti fa i primi posti da 2000 pieni e poi si fa pure i club si farà super grattata se poi i posti iniziare da 10.000 tu in discoteca non torni più perché poi 10.000 non compra il biglietto t'ho visto in discoteca è vero sì 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 ma guarda cioè continuiamo a parlare vedo un sacco di analogie è proprio come si sviluppano i mondi è molto simile è l'entertainment voglio dire sì 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 magari quando fai serate a biglietto entri nel mondo delle date live a biglietto poi magari che ne so hai un brand che la settimana prima dello spettacolo in quale la città ti paga un botto di soldi però è più è più cioè più importante la data a biglietto esatto sì 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 e poi secondo me è interessante anche quello che dicevi tu della cioè c'è molta c'è un'analogia grossa secondo me sul proprio il tipo di linguaggio cioè il linguaggio che porta la stand up è un po' la rottura di linguaggio che aveva portato il rap in italia di cose che prima magari temi che non si affrontavano poi si cominciate ad affrontarli poi sono i generi più diretti sono generi molto diretti parli spesso senza la quarta parete il rap in italia senza ombra di dubbio credo che abbia abbiamo una forma di paraculismo diverso voi avete sta roba che comunque fa ridere se non ti fa ridere sei un preso male ok invece noi abbiamo sta roba che abbiamo il peso sul collo che dobbiamo insegnare alle generazioni che cazzo vuol dire vivere ok se io lo dovessi sapere per forza di toscania io racconto una storia e si presume che la mia storia sia sempre la verità voi raccontate delle cose che fanno ridere quando c'è un fondo di verità perché è vero capito allora fa ridere prende per il culo una società che si accolla la presa in giro mentre noi non la prendiamo in giro ne parliamo in modo peso e quindi la gente soffende sì però però voi usate anche l'ironia ogni tanto nei pezzi cioè la usate molto come come strumento viene comunque capita come viene capita la vostra proprio messa su un altro cioè la nostra sarà sempre denuncia infamante bravissimo non sarà mai uno scherzarci su facendoti vedere un'altra cosa senza pensare che se il mio repertorio da domani diventa uno sproloquio di battute che potrei fare in un freestyle non avrebbe non verrebbe considerato con lo stesso spessore con il quale può essere considerato un testo dove in realtà dico qualcosa di più edificante se vogliamo poi la trasformazione del linguaggio secondo me colpisce voi come colpisce noi adesso è tutto più online anche se pensiamo banalmente anni fa i dischi erano pieni di brani ad argomento cioè il pezzo che parla degli amici il pezzo che parla di fumarmi le cani durava sei minuti bravissimo adesso noi tante di queste cose le trovi in quasi tutte le canzoni magari in una in una line in una quartina in una in un concetto quindi se un po questa cosa la vedo anche un po nella stand up dove si salta parecchio da un argomento all'altro e si tende comunque ad avere una line che colpisca poi molti di voi che sono bravissimi intrecciano tutto e stessa cosa vale per noi tenere insieme le cose e lì c'è la differenza tra quello veramente sottile più in gamba tra virgolette e quello magari un po più becero e poi lo show è uguale a un disco perché comunque sono argomenti di tre minuti con dodici argomenti di tre minuti che ti portano al mio filo logico se fossero bravati nell'insieme tu ho fatto il disco con un concept mi ricordo quando avevo pubblicato lo special su youtube da ragazzino che sognava di fare il rapper avevo amato un commento che diceva mi sento come se fosse uscito il disco di un rapper di cui avevo sentito solo i singoli ed il concetto è quello cioè hai visto magari i pezzi su su instagram poi vedi chiaro il lo spettacolo intero che è l'album è vero è vero anche se ci fosse io fossi con lo scimmiato di rap come se fossi più un come uno stand up comedian che un rapper potrebbe anche però cioè sarebbe figo provare che ne so marracash ha fatto il disco tutto girato sulle parti del corpo per dire no prendi la stessa roba ci fai lo show to sulle parti del corpo dici mica sono ho flippato con quel disco sono sicuro che anche io posso far ridere dicendo questa roba qui capito interessante diventa un concept show preso paro paro da una roba di cui sei fan giustificato quindi è vero stavo pensando con quale disco di ruggero dei timidi farlo io anche quale dei quale dei timidi anche dei tanti ma tra l'altro questo mi porta a una domanda che che mi interessa una cosa che mi interessava vabbè prima vi faccio un'altra domanda allora per voi il concept del disco di solito a che punto arriva del processo creativo cioè prima comincia a esserci qualche testo e poi capite che il concept del disco va in quella direzione o partite dal concept e poi arrivate ai testi è molto personale allora se vuoi possiamo parlare del disco che abbiamo fatto assieme esatto parliamo di brava gente brava gente è uscito dopo in realtà abbiamo già delle canzoni alla fine abbiamo fatto questa roba da noi per noi come la come faceva la brava gente no tipo del non so tipo goodfellas no tu li vedi tutti gangster super criminali però sta roba parte per la comunità tutto nasce da lì poi l'espansione il potere ti fa perdere il cervello però tutte le piccole tarantelle che fai all'inizio che ti sforzi e lo fai per la tua comunità ok noi abbiamo fatto un disco che volevamo sentire che in giro non c'era mi sento un disco bello lì vai va quindi anche il concept un po for us by us la copertina no richiamava quel mondo lì un posto il pranzo no lo vedi un po italo americano ci sta sì 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 perché il concetto era quello però il concetto arriva strada facendo non siamo partiti dicendo ci chiamiamo brava gente per questo motivo e quindi il disco andrà in quella direzione è stato un po forse dare un cappello a cose che ci siamo guardati vedo come cazzo va andrà chiamato un questo disco in qualche modo di un po vieni va da lui c'era se c'era neanche una canzone che siamo brava gente del disco delle volte appunto il concept arriva perché te lo trovi lì delle volte non lo so quando ho pensato a v per esempio parlo di un altro disco che ho fatto sapevo che avrei chiamato il disco così perché la via aveva troppi significati era il mio quinto album quindi aveva tutto che girava intorno a questa cazzo di v che era poi anche un simbolo era nella però è un caso mi è successo solo in quel caso lì ok per il resto il concept è sempre arrivato alla fine e o a metà brava gente poi per noi è stato perfetto ed era una una cosa che uscita direttamente a max perché effettivamente il disco era quello quando lui dice dalla 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 brava gente per la brava gente sperando che sia sempre tantissima la fuori non è abbiamo fatto una cosa a cerchio ristretto chiaramente però quando lui dice il disco che volevamo sentire un disco rap che forse nel panorama mancava ok quindi è perfetto il concept è tutto giusto e sì ma io e lui vestiti bene stavamo benissimo anche i copertini avete approfittato io invece sono più un paraculo bastardo cioè tutti tutti i miei dischi sono molto autoreferenziali parlano di me non quindi uno l'ho chiamato max nome mio uno entertainer che è il lavoro che ho sempre fatto comunque ho fatto prima di fare questo ho fatto sei anni nei villaggi turistici ok quindi comunque sempre lì ero uno l'ho chiamato gemini che è il mio segno zodiacale ho finito adesso non dirò dieci dita lo chiamerò perché le ho anch'io lo chiamo figlia il mio cognome da un periodo per avere un cane che si chiama come puff teddy fra l'altro perché in realtà non ho ben capito quel successo ho visto che lui è al centro di uno scarico che si 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 hanno aperto un po' il vaso di pandora la secondo me si 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 sa preva già di beh a quei livelli lì a parte che è sempre c'è dai dalla morte di di biggie pack che il tipo a questalone di mistero voglio dire è una persona con la quale si sa che non è che si può proprio fottere così a un certo punto doveva succedere che uscisse fuori qualcosa in mezzo a tutta quella roba lì quando sei in quella tempesta ma no sarà facile però secondo me ne viene fuori ma questo era solo parentesi esatto vi segue tra l'altro puff teddy sì no no infatti non esponiamoci troppo salutiamo anzi no forse meglio non esponiamoci troppo ma poi tu max hai mai pensato di continuare con la stand up cioè a riprovare o con la comicità in generale con la comicità o allora voglio spingere ancora un po' con questa roba di rappare che comunque no no ma chiaramente intendevo sento di essere in parallelo sento di vedere un'alba che mi sto forse un po' rompendo il cazzo ti dico la verità quindi di voler provare qualcos'altro di fare altre robe vedrò dove mi porta un po' la vita ok 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 in america forse c'è solo donald glover mi viene in mente c'è il discambino c'è il discambino che fa stand up e fa il rapper come proprio come ruolo sì però tanti hanno fatto poi pensiamo lo so ai vari roast che ci sono stati in giro sì 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 ma c'è anche lo special di snoop talk non fantastico l'ho visto da poco bellissimo molto divertente ma tra l'altro cioè giusto per connettere questi due mondi e introdurre un argomento di cui volevamo parlare ho visto adesso di recente il documentario su Kanye West su Netflix sì che è girato tutto da un comico che faceva il comico ma era nella scena è vero del rap era un comico lui sì QD era un comico lui inizia a fare Channel Zero per avere materiale per crescere per farsi conoscere e poi vendere migliere invece ha scoperto Kanye West poi perché l'ho trovato lì è vero è vero sapevo chi era il tipo perché abbiamo scritto il documentario ma non sapevo che era un comedian ci stanno sì 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 è vero poi ha smesso però sì ha iniziato quel progetto lì comunque guarda per il là di questa roba c'è questa roba piace a tutti noi rapper ieri sera parlavo con Emis e gli ho mandato una battuta mia una cazzata che è e gli ho detto un giorno se inizio uno spettacolo lo inizio con questa battuta perché mi fa troppo ridere e mi fa minchia quanto vorrei fare uno spettacolo ma ha scritto di stand up no? cazzo ma prima o poi dobbiamo fare lo showcase dei rapper dobbiamo fare un crossover o un roast io mi sono proposto per il mio compleanno dei 40 anni mancano ancora due anni se venite tutti ad arrostirmi ma di brutto io sto aspettando da un bel po' l'occasione di fare un bel roast perché a me è un format che è sempre piaciuto ma in Italia non ha mai preso ma secondo me solo noi e voi lo possiamo fare unendo le forze non lo può fare nessuno perché ci hanno un palo nel culo gli altri è vero cioè non verrà mai qualcuno del pop a farsi prendere in giro ma io vi meno dopo comunque ci lasci fare il fatto siete quello che volete ma poi vi prendete meno come liberi di fare quello come questa carne e questa è la vera libertà questa è la vera libertà ognuno è libero di dire quello che vuole può arrivarti un pugno in faccia forse è questa forse è questa la vera libertà purtroppo vi va male che i nostri amici non è che sono proprio Will Smith no no che è lo schiaffo attorato quella cosa finale ma infatti non facciamo passare questo messaggio perché voglio finire i miei spettacoli ma non vi veneremo mai con la mia faccia non picchiateli non hanno ancora detto niente grazie aspettate sempre il nostro segnale ogni tanto succede qualcosa di ambiguo e qualcuno sembra che dica qualcosa riguardo me o riguardo lui e i telefoni nostri squillano da tutti i quartieri d'Italia ma cos'è che vuole questo? no fai una roba di promo mi ha chiesto lui di fargli un video dove lo mando a fan c'è qualche problema me lo devi dire non è successo niente diciamolo subito hai visto no esce il tamarro che è in te ma neanche in noi nei nostri amici ok negli amici è più problematico farli ragionare perché non rappano non possono capire nelle dinamiche dei social cosa cazzo funziona quello è vent'anni che fa l'idraulico c'ha due mani al te così non gliene frega niente capito vedi il tuo amico quindi pensavo altri rapper che ti chiamassero no ma figurati gli altri rapper sono amici lo sanno come gira il problema sono gli amici che non rappano eh ci sta scusa voi non avete amici che non capiscono per niente che voi fate un lavoro che il vostro è un lavoro si si che è una finzione quella che fai sul palco ma no che proprio ti fai il culo per fare quello che fai ah si anche che non rispettano minimamente non credono nel fatto che tu faccia realmente fatica perché non hai il male alla schiena che hanno loro almeno voi avete una cosa che il lavoro il lavoro inizia quando sali sul palco secondo loro ai lavori dalle 9 alle 10 ma che fai questo ti dico a me hanno detto mica sei passato ai villaggi vacanze al palco ma quando vuoi lavorare mai ma poi per carità secondo me per noi sono tutti felicissimi della vita che facciamo però a noi dico cioè spesso eh tu sali e dici cazzate cioè la gente pensa la gente mi chiede ma tu a Comedy Central vai dici cazzate ti registrano cioè pensa che sia così che ti viene poi vedono dove lavori e pensano una cifra di soldi esatto questa è un'altra roba incredibile per anni in quartiere pensavano che il disco d'oro valeva 100.000 100.000 euro sono arrivato al bar paga da bere perché è 100.000 euro 100.000 euro cioè che fosse proprio uguale a raga per farti il quadro paghi 50 euro la targhetta più 100 per il tipo che ti fa il quadro bello quindi se fai il disco d'oro 150 euro tu che devi pagare se vuoi averlo appeso a casa tua per farti il cazzo duro in realtà va in negativo esatto se non è un buon periodo sperano di non fare il disco d'oro perché non ho questi 150 euro non so se me la penso di prendere il disco d'oro è incredibile è vero la percezione quando ti vede sul palco ti vede in televisione veramente pensa che tu abbia che sei amico di qualcun altro che è ricco davvero a cena con Lazze e Gerry Scotti l'altra sera stai milionario allora stai milionario no chi vuole esserlo a bici è vero a cena con Lazze e Gerry Scotti avete parlato di Treviscotti no è finita nell'argomento salutiamo Treviscotti io lo conosco personalmente Treviscotti sì lo salutiamo grande non Treviscotti chiaramente Treviscotti chi è Treviscotti Treviscotti ah no 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 ah ok la pagina che fa le parodie di Gerry Scotti pensavo ah no non lo conosco sì no no beh altrimenti ah perdonami pensavo che tu conoscessi davvero ma chi è scato da un perro ma pensa pensa se io avessi buttato lì se no io conosco personalmente Treviscotti lo salutiamo e poi vai avanti con il discorso poi dicevamo esatto no 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 Treviscotti non è una pagina che va forte su che va forte su Instagram cioè lui fa i meme di Gerry Scotti con quelli che vediamo tutte quelle robe che vediamo in giro con la faccia di Gerry Scotti e la voce con le Treviscotti sì grande sì 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 no per quello infatti pensavo perché abbiamo dato un lavoro perché Gerry Scotti lo conosce ah ok per quello pensavo ho detto chissà se ne avessi parla ma era casuale io sono la cena con Lazze e Gerry Scotti era a fianco quanto è facile essere un genio con l'intelligenza artificiale comunque di Gerry Scotti su tutto e vedrai che la gente fa ridere è vero alla fine il genio sono io capito l'ho solo detto a un computer di farlo anche se Ezio Greggio avrebbe fatto più ridere però però lui ha avuto l'idea di mettere Gerry Scotti lì cioè capito Gerry Scotti ha avuto l'idea di farci tutti i reel di Instagram ripostandoli tra l'altro adesso lui sta facendo i soldi su questa cosa Gerry Scotti ma sai perché forse perché essendo forse uno degli uomini che è stato più in tv negli ultimi cento anni forse è quello a cui voce e più parole sono state dette e quindi è più facile per poter ciucciare tutto per l'intelligenza artificiale forse può essere c'è una spiegazione tecnica no lo so può essere può essere perché lui perché lui può dire tutto perché lui ha detto tutto ormai no? è vero in tutti gli anni di qualunque cosa sì di recente mi ha chiamato un nostro amico Frizz il famoso amico Frizz esatto dicendomi amico Frizz ho trovato ho dato in pasta l'intelligenza artificiale e sta roba ti assicuro che c'è questa roba che dice Frizz dice questa è la tua voce mi ha detto ok? mi ha mandato la roba effettivamente è la mia voce cazzo quindi vuol dire che sono stato digitalizzato cazzo non so se è per dire solo quelle parole che ho detto che tra l'altro era una bestemmia no scherzo però sì effettivamente è incontrollabile ho fatto tanti dischi magari ormai le a cappelle le tiri fuori come vuoi basta che se vuoi però tanti salva il flow comunque c'è troppo le tanti magari cantando invece c'è rischio uno che parla e basta potrebbero farlo a Bonolis a Pippo Baudo tutta questa gente che parla però poi va regolarizzata questa cosa nella musica invece tu puoi inserire la cappella la Acap lo spartito scegliere la diventa un disastro è che tu puoi proprio dire voglio questa canzone però con dentro queste parole oppure queste sono le parole ma voglio questa base la voglio cantata da quest'altro adesso banalmente è semplicissimo togliere la voce da una canzone campioni solo la base che poi era la base del campionamento all'inizio era l'esatto opposto il telefono per farti la modalità karaoke esatto quello ormai è facilissimo però dico agli albori del rap i campioni erano ti prendi questa parte di canzone con tutto quello che c'è dentro quanto influirà sul cantatù sulla vendita del cantatù tantissimo ma anche sui soldi che faremo noi perché comunque c'è gente che ha fatto dei pezzi tecno dove ha fatto fare una rima a Jay-Z che non è lui e il pezzo ha fatto 200 milioni Jay-Z non ha preso niente perché non è lui quindi tu sei comunque venuto a ciucciare qualcuno deve mettere dei punti no no ma infatti bisogna vanno messi ma registreranno la voce il timbro la roba se non arriva da me non può funzionare per funzionare magari troveranno un accordo ce lo vuoi usare comunque mi dai le royalties finito il film Jay-Z in qualche modo adesso se non l'ha già fatto lo sta facendo adesso mentre ne parliamo probabilmente avrà trovato un modo per legalizzare certificare la sua voce a livello digitale arriva e ti fa causa e gli devi dare il 100% di quello che ha prodotto ed è qui che arriviamo noi che siamo la CIA dell'Inter cioè dobbiamo creare noi questa roba che tu depositi il centro depositi nella stand up c'è stato c'è stato il primo caso di una denuncia perché delle persone hanno fatto il nuovo special di George Carlin che chiaramente è morto da 20 anni quindi non è il nuovo special di George Carlin e la voce è quella io poi non l'ho ascoltato perché appunto cioè nel senso per me queste cose le battute in quel caso erano scritte non lo so credo che è un audio show sì sì era audio e credo che anche il testo lo scriva l'intelligenza artificiale cavolo e la figlia di George Carlin le ha denunciati però da qualche parte bisogna iniziare sono felice che sia successo un po' spaventa questa cosa della direzione che sta prendendo l'intelligenza artificiale di tutte le cose che sta riuscendo a fare in ambito musicale e non cioè di che uno può scrivere una canzone anche allora ci sono dei dati positivi e dei dati negativi come in tutto devi imparare a usarli mi piacerebbe il fatto che una volta che non trovo una voce femminile che mi canta un ritornello posso farlo io ok così te ne vai a fanculo e basta quindi se ho fatto la canzone ho fatto quello che dovevo fare ok quello che volevo l'ho avuto capito però d'altro canto c'è sempre il fatto che comunque nessuno certissimo che tra poco veramente non ci venga più riconosciuto niente ci sarà il dubbio di che cosa è vero e cosa no la gente metterà in giro delle canzoni che potrebbero diventare virali su TikTok ma tu non le hai ancora fatte e allora potrebbe diventare un casino tutto come in tutto ovviamente poi non è un processo che avviene schioccando le dita e ancora è chiaro che serve serve qualcosa di analogico ok non puoi sostituire tutto non puoi sostituire la persona che ci sta dietro non puoi sostituire il vissuto che ti porta a scrivere quella cosa certo ok che sempre poi io dico sempre se scrivi bene ma non sai rappare bene scrivi un libro nel senso se hai delle belle cose da dire ma non sai rappare bene puoi anche scrivere un libro ci sta che tra l'altro lo dici in una canzone anche in una rima e lo uso proprio come come dire un conto è scrivere le cose ok che siano delle belle parole delle belle canzoni è un conto è rappare è l'unione delle due cose che ti porta a essere poi un artista e a fare questa cosa questa cosa secondo me è imprescindibile poi che la tecnologia può ingannare in qualche modo può ovviare anche al processo che è sempre più rapido adesso è meno difficoltoso ok ci siamo ma la sostituzione e prima di avere problemi veri saranno la stampa i giornalisti loro sono inculati per sempre le figure intorno all'arte in generale hanno pensate a tutti quelli che scontornavano le cose era un lavoro ora lo fa un'intelligenza artificiale noi siamo l'arte è ancora autentica si si assottiglia la parte diventa che la parte in più che puoi mettere tu è la parte autentica di vita vissuta diventerà che chi sa usare bene l'intelligenza artificiale sarà un artista esatto al servizio di uno che lo comanderà ho un amico che lavora in sky parlavano della questione pubblicità eccetera il loro capo li invita a riunione gli fa vedere una pubblicità dove a un certo punto uno camminava tutto storto era fatta con un'intelligenza artificiale ma tutta intera il video gli attori c'era qualcosa da sistemare il tipo camminava un po' male ma era vera e gli ha detto raga sveglia madonna volendo essere ottimisti non andrà assolutamente così ma volendo essere ottimisti questa roba paradossalmente potrebbe aiutare appunto potrebbe dare più valore alle cose più d'autore perché una canzone commerciale la puoi fare l'intelligenza artificiale la può fare una canzone d'autore però le robe è una banca dati se nessuno di noi ci mettesse dentro un cazzo questa roba morirebbe oggi verissimo il problema è che se li prendono a forza però i dati mica i dati per la sua voce li ha dati lui non hanno chiesto è quello il permesso non è regolamentato però se tu stesso non vai a inserire niente cioè qualcuno che ha messo la voce di ieri c'è capito sì io per esempio chat gpt non l'ho mai usato perché la mia paranoia è ficcare dati che di cazzi mi hai in una banca dati il giorno che vorrò appellarmi all'aiuto e all'ausilio della i vado da qualcuno che ci smanetta che ci ha infilato tutti i cazzi suoi dentro e gli dico aiutami a fare una roba e gli spiego la mia roba ma io cercherò di non mettere mai un cazzo di mio pugno in una banca dati del genere è un discorso spagnolo sulla testa paranoico posso evitare io la mia roba non te la do basta ma il fatto che noi abbiamo già pubblicato le nostre canzoni e sono già su youtube e online tutto quello che puoi trovare al di là del fatto che qualcuno l'idea di una copertina vada a prendere quella roba e la butta dentro è chiaro che c'è no del malsano se vogliamo prima o poi verrà così ma è lo stesso infame che la scarica da quando io faccio uscire un disco e poi la mette su youtube esatto è Mixed by Harry che si inventa la pirateria e lui dice volevo solo fare il dj questo mica sapeva che stava inventando la pirateria mentre l'hanno fatto mica lo sapeva l'hanno capito strada facendo è vero anche secondo me l'hanno capito strada facendo però è vero che nel film la fanno molto romantica e giustamente si sono fermati nel film la fanno molto romantica c'è da dire io sono un po' hanno detto ma saremo mica binatando no 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 dobbiamo fermarci bruciamola bruciamola la convention delle major loro erano la prima etichetta hanno venduto più di universa in quell'anno è chiaro che hanno inventato la pirateria ma la legge anti pirateria nasce dopo quella roba in italia quindi vuol dire fino al caso eclatante sta cosa non si muove quando ruberanno la voce di analise faranno una super hit qualcuno dà l'etichetta di analise si sveglierà deve succedere qualcosa di eclatante adesso hanno tutto di tutti in maniera non controllata allora vi dico una roba che non metterò nomi di nessuno però è una roba che è successa nel business sappiatelo qualcuno ha già usato l'intelligenza artificiale nelle canzoni e niente le canzoni devono uscire quindi passano tramite le etichette e l'etichetta chiama l'artista in questione e gli dice senti ti stiamo mandando la liberatoria per la voce femminile arrivederci e grazie è finita lì e cosa gli devi dire è un po' pazzo perché tu l'ho creato io non c'è liberatoria però incredibile loro pensano ancora che c'è la voce femminile ti stiamo mandando la liberatoria da firmare a chi cazzo la do da firma che questa roba sta già colpendo il business è già arrivata in faccia all'etichetta si la paura è che la paura è che prima o poi verrà regolarizzata perché per forza c'è la paura è che poi verrà regolarizzata male peggiorando ancora la situazione perché chiaramente bisogna mettere dei punti fermi per quello appunto dicevamo voi dite deve esserci il caso eclatante deve arrivare per quello dicevo sono felice che la figlia di George Carlin abbia denunciato questi perché da qualche parte bisogna iniziare e quindi non lo so non lo so queste intelligenze artificiali sei mesi di pubblicità alle mie spalle ieri in una buca nelle marche è uscito ieri tutti provo che avete visto i sei mesi ma sono diventati tra l'altro ma io da qui mi volevo collegare visto che appunto adesso parlavamo di pirateria eccetera di un argomento di cui si sta discutendo cioè si discute già da anni soprattutto poi perché poi c'è stato la legge antipirateria poi però sono arrivate le piattaforme streaming che hanno legalizzato un po' la musica gratis per tutti cioè il risultato è quello in un certo senso per noi per noi gratis per tutti esatto perché cioè non è proprio così una cosa che ho notato è che in questo dibattito una cosa su cui sono tutti d'accordo tranne ovviamente i colpevoli di questa cosa è che le piattaforme dovrebbero pagare gli artisti decentemente credo che questa è la parte su cui sono tutti d'accordo e pensa che comunque sebbene non veniamo pagati decentemente veniamo pagati tutti tutti quindi Ruggero dei timidi Drake ok IPNL chi si accolla i diritti dei dischi dei cantanti morti un disco dell'artista morto che fa due miliardi a qualcuno vanno questi soldi e sebbene siano pochi sono tanti cioè per tutti gli artisti sono tanti soldi che loro non hanno cioè noi già veniamo pagati poco da gente che questi soldi per pagare non avrebbero neanche quelli che ci danno c'è dici le piattaforme certo quanti soldi hai pensato quanti soldi sono in tutto anche se sono 0,000 39 centesimi a visualizzazione sono mali per i 150 miliardi di ascolti al giorno globali di tutte le canzoni sulla piattaforma però il fatto che loro paghino quelli non vuol dire che loro riescono a entrarci di più cioè andare in positivo quelle società nascono in perdita ok sono sostentate da sponsor finanziamenti e gente che fa girare grano però non puoi avere un capitale per pagare tutti messilmente così tanto ok 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 quindi questo è un lato della storia che non pensavo di sentire è reale poi diciamo che il discorso lì fondamentale che fa nascere tutta la diatriba è stata un po' la trasparenza questo però è dovuto al fatto che il mercato nasce lo streaming nel 2013 14 in Italia aspettiamo il 2015 prima che effettiva cioè mi ricordo il mio primo disco in measure nel 2014 mi dicono spingi youtube si c'è anche spotify poi ok c'è l'importante la youtube in quel momento lì il banner di itunes esatto io sono sul banner di itunes impazzisco mi è uscito il disco devo essere sul banner di itunes era la cosa più importante il banner di itunes ok perché era la vetrina perché compravi l'itunes si è vero l'ho venuto del tempo senza fare un discorso mondiale che poi ogni paese avrà le sue cazzi facendoti un discorso in Italia rapportato anche solo alla mia esperienza che quindi non è quella di Albano voglio dire all'inizio quando è arrivata quando è arrivato il servizio di streaming era un po' più democratico quasi anche lo spazio cioè ci hanno provato a fare le cose in una certa maniera poi è chiaro che quando quella roba diventa unicamente il metro l'unità di misura del valore di un'artista perché quanti ascoltatori mensili hai quanti milioni di streaming hai quello ha fatto in modo che in maniera poi piramidale chiaramente in base a chi deve andare chi sta andando chi va dal nulla ok quindi ancora quella quell'idea democratica di fondo c'è merito praticamente parlando chiaramente c'è un po' di meno ti faccio un paragone assurdo però tu pensa alla marijuana legalizzata anche in Spagna tu vai ci sono dei club tu entri e compri la fumare ti siedi fuori mica legale è tutta una zona grigia su cui la gente è seduta da oltre dieci anni lo streaming è stato regolizzato da neanche venti vuoi che tuttora ad oggi non ci siano delle zone grigie dove la gente pisce e caga in libertà è normale ci vogliono cento anni per levare le zone grigie da una legge quindi finché piano piano e in più la tecnologia va molto più veloce della legislazione quindi mentre stiamo cercando di trovare le zone grigie dello streaming è arrivata la zona grigia dell'intelligenza artificiale e allora ce lo picchiano nel culo di continuo non riesci ad aggiornarti con le legislazioni non riescono a stare aggiornata la tecnologia quindi ci saranno sempre zone grigie dove i più svegli arrivano prima e piantano l'orto ci sta è vero è una bellissima traduzione sì è un po' triste sul futuro che ci aspetta però sì no raga il mondo si basa sulle zone grigie gli articoli di ogni costituzione del mondo sono state fatte perché qualcuno può fare una roba perché lì non c'è scritta esatto e poi il potere può manipolare le leggi a suo cazzo di piacimento in ogni business più la legge è poco chiara più il potere può fare quello che vuole e può dirti che non hai rispettato la legge reti televisive che non pagano diritti delle canzoni che passano perché tanto sti cazzi delle canzoni mentre fa gol del Piero capito però non paghi le canzoni parlando di musica è da qualche anno che abbiamo finalmente più di una possibilità a livello di diritto d'autore fino a ieri ce n'era solo una non potevi decidere fra altri non potevi far gestire il tuo diritto d'autore ok in quel senso ah sì 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 no non è proprio così trasparente voglio dire no no cioè in Inghilterra io posso scegliere se appoggiarmi a società locale dello Stato ok o ad altre 10 americani è una cosa che se ci pensi è assurdo che fino a poco fa in Italia in Italia non c'era e si sono sempre seduti in 4-5 lì a spartire è la storia più vecchia del mondo questo funziona un po' ed è costato per chi ha i competitor è costato poi non credo che parlando di streaming nessun artista possa basare le proprie economie solo su quello o quantomeno non al 100% tutti gli artisti che fanno dei soldi è perché suonano poi come ti basi l'economia sono affari tuoi come ti basi l'economia o come delle gioche a poker sono affari tuoi come le investi per aprire altre cose come differenzi il business è chiaro quindi bisogna fare attenzione a tanti aspetti però come giustamente diceva mio frate prima ieri non esisteva anche qui pochi non c'erano dalla pirateria dal cd pirata sulla bancarella non abbiamo preso neanche 50 centesimi più calcola che più more you get bigger neanche la groglia dei numeri da quello zero più diventi grosso più non c'è almeno da lì puoi avere un profilo certo e poi a meno che tu non cominci a fare lo stronzo più diventi grande in questo business più non c'è scampo per non pagare mezza tassa o ti crei società specchio fantasma dove tu fai le cose e allora pago il video alla mia società e me lo faccio da solo ok però è finita raga i concerti sono tutti super fatturatissimi è tutto super bianco cioè se giri per i bar ti suoni 500 euro te li dai il capo del bar bella lì fai 12.000 persone e ti tolgono il 45% di quello che prendi sempre e poi non è che ti pagano nel modo giusto però no? quindi comunque lo Stato vuole il suo ma non ti tutela nel far sì che tu possa dare allo Stato i suoi soldi senza che tu muoia sì e poi ti chiede l'anticipo sull'anno prossimo sì quella è una follia stanno chiedendo al te stesso del futuro cioè come se ti hanno detto al te stesso del futuro hai vaso il fisico ma insomma ti chiedo il numero della mia non sappiamo a chi chiedere gli chiediamo a te oggi quando c'è il budget dell'anno prossimo picchiatelo tutti è una cosa assurda ma nell'entrata di un cantante oggi cioè nel culo nel portafoglio siamo pari sì che siamo esatto allo stesso livello ma la fetta Spotify rispetto alla fetta live di entrate cioè quanto è la differenza se Spotify e tutte le altre aziende pagassero come Cristo comanda quelli che fanno i big numeri potrebbero dirti Spotify ma al momento guadagniamo tutti dai live ok assolutamente credo che vale per noi come per Vasco Rossi più o meno cioè che guadagna più dai concerti che dallo streaming questo in Italia più o meno secondo me tutti chiaro poi se sei furbo e fai soldi con i concerti grossi ti fai la tua casa di produzione dei concerti è come se tu ti fai la tua casa editoriale esattamente e da lì puoi tenere più del di quando fai te la fai tu l'ho fatto io è mio capito esiste anche un'altra formula che è quella che molti utilizzano completamente all'inizio cioè ci sono questi aggregatori tu paghi un abbonamento e carichi le tue robe e te le mettono su tutte le piattaforme di ascolto il 100% di quello che produce ti entra direttamente in tasca molti altri artisti molto grandi anche nel nostro panorama faccio l'esempio di Russ scusate rass che ci sta chiamando rass è un rapper americano che tra l'altro lui oltre a rappare benissimo tra l'altro si produce gran parte delle sue basi quindi è come un made self mix e masterizza i dischi vabbè è un caso eclatante però lui ha 100% delle sue royalties è chiaro che il tipo può fare tanti live guadagnerà sicuramente più soldi che di streaming ma lo streaming a lui frutta il 100% di quello che produce quindi è diverso è che quando parliamo di centinaia di migliaia di milioni quindi miliardi di streaming iniziano ad essere dei soldi considerevoli ecco il discorso però è che tu devi essere sicuro che stai sparando nel cielo un fuoco d'artificio che vedono tutti perché se te lo carichi da solito lo spari dal tuo cannone c'è il rischio che il cannone degli altri sia più forte e spari più in alto della roba pacco non c'è il rischio c'è la sicurezza poi esiste sempre quella uno su mille ce la fa chiaramente l'iperbole che ti porta da zero a mille perché il tuo video diventa virale perché la tua canzone è più facile che uno su mille dopo anni di soldi si rompe la minchia e va contro tutti e se lo fa da solo in Italia manca molto poco assolutamente siamo lì lì e beh vediamo già dei pezzi grossi lamentarsi di questo stufarsi sì sì che non hanno paura di muoversi tra l'altro secondo me poi quando si sbloccano i pezzi grossi è lì che poi si fa il passaggio è l'unico modo sì qualche anno fa c'era stato avevano tremato tutti perché Drake ha detto torno indipendente ah mi ricordo hanno tremato tutti perché quello è il 30% degli ascolti mondiali e poi adesso c'è lo so che cito troppe volte Kanye West in questo podcast però adesso c'è l'esempio di Kanye West che sta facendo i numeri che è tecnicamente indipendente adesso tecnicamente è il numero uno più su Spotify sì 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 ma è uscito anche Billboard ieri e il primo silo sta proponendo di vendere il suo disco lui vuole uscire anche dalle piattaforme streaming lui vuole vendere il suo disco indipendente però in realtà questo è quello che vuole questa settimana una patata sopra gli stems che dovete decidere cosa ascoltare nel disco hai presente? sì sì quella roba è geniale ha un costo di produzione elevatissimo sì ma lui è poi fuori di te sei un grande perché comunque ci devi credere ci devi spendere ma questa cosa nella musica esiste un po' da sempre di cercare delle strade alternative per stare un po' sei un po' Don Quixote contro il cazzo di mulini a vento sempre lì puoi riuscirci Cani West può riuscirci più di altri sicuramente ma anche lì si troverà a fare i conti con qualcosa o crei un'altra struttura proprio da zero e anche lì quando sono nate altre piattaforme di streaming come Tidal ad esempio Jay-Z per anni non esisteva su nessun'altra piattaforma tranne che sulla sua perché? perché paga sei volte le altre ok? paradossalmente se io avessi più ascoltatori mensili su una piattaforma come Tidal che chiaramente in Italia non ha così guadagnerei di più cioè mi basterebbe avere un sesto degli ascoltatori mensili che ho adesso per guadagnare uguale questo la gente non lo sa pensa che è tutto uguale dappertutto chiaramente non è così regolamentato sotto un certo punto di vita senza calcolare che poi sono arrivati i vari TikTok del caso che fanno ancora peggio capito? perché comunque quella roba lì noi non abbiamo il telefono con TikTok che gira tutto il giorno quindi non capiamo la violenza che ha questa roba qua ma la musica è lì adesso che giri a ogni 20 secondi quei 20 secondi ti vuoi bastano cambiarti e il problema poi non è infatturato di un anno e il problema è quando poi gli artisti iniziano a fare le cose non per fare delle belle cose ma perché vogliono quei 20 secondi che vanno reali una canzone di due minuti che fa schifo ma con 15 secondi di violenza in un ritornello allora bella sì 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 bastano 20 secondi nella canzone in cui dici le cose giuste condivisibili dei ragazzi su TikTok ti vanno a virare quei 20 secondi e lì e lì anche questo è un problema anche nella comicità cioè che ora succede che ci sono comici che salgono sul palco dicendo ora faccio questo minuto così lo pubblico e lì è la morte di tutto lì è la morte di tutto va bene dopo e poi devi fare altri 18 e ti guardiamo fare schifo certo dove ti registri in palestra e no gli registri sul palco con la gente che ti guarda e non ride sì quella è la morte di tutto ma invece riguardo le dichiarazioni antisemite di cannibale no 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 però volevo fare l'ultima domanda riguardo il discorso Spotify piazza from the streaming vendetta sarà mai su Spotify o lo devo continuare ad ascoltare su YouTube è uno dei pochi dischi di cui io sono titolare del mio master cioè un mio stavo aspettando una ricorrenza vorrei aspettare una ricorrenza un po' più quanto manca? manca poco mancano tre anni quindi ho fatto una domanda azzeccatissima senza saperlo porca vacca vendetta sì che è 2008 eh sì vendetta ok quindi per continuare ad ascoltarlo su YouTube il canale è tuo comunque i soldi risolvendo a te no anche lì no YouTube non è proprio chi li ha caricati non so chi li ha caricati ma la pagina ma ti vediamo a prendere la pagina se non sbaglio è tipo NC official però allora posso sì non ho gli accessi di quella pagina e magari boh non lo so ok forse qualcosa forse qualcosa sono anni che si ruba i soldi da solo sì esatto è stato che li sta mettendo un conto che non sa di avere esatto chissà chi li ha caricati quei video ed è lui su un account da cui non sta entrando da anni sono soldi che girano bene quindi vai allora passiamo alle domande di rito direi domande di rito che facciamo a tutti gli ospiti che passano da tazza di caffè che sono pensando alla cultura popolare alla cultura pop all'intrattenimento una cosa che viene sottovalutata cioè che ha una brutta reputazione voi non capite perché dovrebbe essere rivalutata è invece una cosa che ha troppo hype e secondo voi non vale tutto quell'hype è difficile lo so ah sì è difficile una cosa che che ha troppo hype lo smash burger lo smash burger ha troppo hype sì ma cos'è lo smash burger si cazzo di panini che ti puoi fare tranquillamente a casa da solo lui li fa molto meglio lui ha una griglia a casa quando viene una bella stagione facciamo il panico e io credo che di aver mangiato delle robe dalla sua griglia di casa che la gente ti vende a 15 euro il solito tizio con i guanti di latte c'è la barba lunga ok 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 che fanno questi cazzo di panini tutti uguali e ti mettono a 30 euro ma vaffanculo no ok e dove vicino a fare gli hamburger fa anche la barba tra l'altro sì bar burger sono questi tipi super ips e vicino a fare un tatuaggio anche barberia e hanno birre artigianali sicuramente ma che poi perché la birre artigianale secondo me è sopravvalutata sopravvalutata ci sta questo come risposta un succo di pigna e poi perché quelli che hanno la birre artigianale o quelli che hanno il barbiere hipster o dei burger hanno tutti lo stesso aspetto c'è sempre grossi con la barba con i tatuaggi super hipster hanno sempre quel tipo di persona lì è incredibile io sono la prova che si può essere grossi con la barba con i tatuaggi e non essere così tra l'altro vedi si può tu sei fuori non è che dici ho trovato un modo per coprire il doppio mento ora devo mascherare la mia vita in un altro modo ah è quello dici non lo so io lo faccio per quello ovviamente sennò ciao ero king del rasoio eri il nuovo testimonial facevo i bobovieri shave like a bomber quindi pagano per questo hai visto? sì esatto sì sì grande secondo me è bobo volevo spezzare la lancia a favore di bobo l'ultima pubblicità entrava con un gatto nelle nevi dentro il bagno no bro l'ultima pubblicità entra in casa di uno lo guarda senza nessuna arte recitativa e dice stoppa la pirateria anche ti è vergognoso mi ha ghiacciato il sangue ma quella nuova invece è stato favorevole alla pirateria in quel momento dove lui alza leggermente vado una blockbuster a vedere le partite un falco si appoggia al suo braccio e lui dice shave like a bomber l'hai visto? cioè saliamo comunque di livello grande bobo sempre bobo fiero quanto è bello che queste persone i calciatori non sanno mai recitare e nelle pubblicità gli fanno sempre fare queste scenette e le fanno sempre male ma sono vent'anni che le fanno e non hanno mai imparato adesso sembra che dico viviamo in una società che però guarda che è così da per tu cioè lo slogan dell'italia è se ci perde il lavandino chiamiamo il macellaio che ci costa meno adesso quanti volte vedi programmi tv adesso non faccio nessun tipo di nome dove è palese che manca un consulente dove dicono qui potevate fare così paghi due persone capito tanto si vede che i soldi c'erano paghi due persone ma che sia quello che pensate che sia come uomini e donne come strano cioè se devi fare un programma che riguarda qualcosa chiama qualcuno che ne sai fatevi guidare in tutto eh cioè devi fare la pubblicità di un rasoio serve un calciatore che sa recitare ma quanti soldi gli stai dando scaccia i 10.000 euro in meno e fai fare un corso ma infatti questa cosa qua non la capisco appellati a qualcuno che ti aiuti questo è paga un professionista per quello che sa fare perché pensi di poterlo fare a fatto che un professionista sia almeno Bobovieri secondo me certo è vero un professionista che aiuti Bobovieri ad essere un professionista che poi è quella logica un Bobovierista per tornare al Giovanni e Giacomo è la logica del mio falegname con 30.000 lire e lire lo faceva meglio e cioè è sempre il mio cugino con 30.000 lire lo faceva meglio beh il Garpez è una merda però c'è il mango le unghie capito dai sembrava il Garpez era una merda l'ho detto sincero l'ho detto con il cuore diciamolo 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 ok Giacomino si è messo a fare i podcast è certo sì 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 qualche volta sono andato anche a vederlo live sì 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 il Poretti Poretcast Poretcast lui che fa domande di cui lo stanno in spazio dice solo c'è cazzo e la gente la aiuta perché lui fa porca puttana è arrivato a livello Mara Maionchi puoi dire quasi tutto è vero è vero anche Mara la chiamano solo ormai a dire vaffanculo sì dice due vaffanculo e la gente è contentissima non ci sai cosa quella mongolfiera e poi le bipano una bestemmia grande Mara ma la cosa che mi fa impazzire è che la gente fa la stupita quando Mara dice una parolaccia la gente fa oddio oh ma è vent'anni che fa quello come la Manonica ormai la chiamano solo a parlare di bombe fumarsi le canne vogliono solo che lei dica qualcosa a riguardo io su TikTok vedo solo clip di lei che dice oh io mi fumo un sacco di canne sempre oppure che dice robe terribili comunque va e si senile le dicono prima di esibirsi capito sì sì magari una cosa tu una cosa sopravvalutata le birre artigianali però adesso dobbiamo trovare il contrario no perché mi ricordo che sopravvalutata che secondo noi poi mi ricordo che in un podcast dici questa volta non Treviscotti Treviscott allucinazione collettiva e poi non ti fanno argomentare ho rosicato un sacco ed ero curioso facciamo il continuo di quel podcast sempre in quel podcast nella puntata nuova sono riuscito un po' ad argomentare ok non l'ho vista si parlava del fatto che ha vinto il Grammy per miglior rap album Killer Mike con un disco molto bello tra l'altro e che non l'abbia vinto Travis che magari per la carriera per il fatto che già l'anno scorso era andata come andata forse se lo meritava io dico sono comunque contento perché non se lo meritava di certo questo disco secondo me quindi quando dico allucinazione collettiva penso a un artista che è sicuramente fortissimo io penso anche alle robe che ha fatto all'inizio Bird in the Trap è un disco clamoroso poi basta ma anche roba nuova ha fatto dei pezzoni ci mancherebbe però da lì il disastro che ha fatto soprattutto in Italia mi sembra quasi come che sia stato scritto nelle stelle che quella roba doveva per forza funzionare per tutti ecco mettiamola così senza togliere un centesimo di valore a Travis Scott che da tempo in memore anzi da quando ne parlavano in quattro nei blog comunque noi pompavamo quindi nel senso ha fatto delle grandi cose e forse per tutta la carriera se lo sarebbe meritato un Grammy senza ombra di dubbio non con questo disco non quest'anno soprattutto con Killer Mike che subito dopo si fa arrestare cioè dovevo andare quello incredibile quello incredibile comunque sia legittimo e quindi no volevo solo perché ho visto che in quella valutata si interrompeva però funziona come risposta alla domanda di Rito adesso manca solo la tua una cosa che secondo te cioè manca il contrario cioè la cosa che ha una brutta reputazione ma secondo te dovrebbe essere rivalutata secondo te dovrebbe essere rivalutata vogliamo questa vogliamo quella che hai appena pensato vogliamo questa no vogliamo questa risposta only fans se lo intendevi palo tipo le slandrone comunque 30 euro comunque ne hanno tutti vabbè no cos'era niente ok solo una cosa no no che però possiamo lasciare qualcuno capirà si ok che cos'è sopravvalutato sottovalutato che dovrebbe essere rivalutato che però invece è una bomba che cosa è una roba che è una bomba che dici perché io non ho risposto io ho detto no infatti ci stavo pensando anch'io una cosa che è il rap italiano la cacca in mare la cacca in mare ma il gesto il processo di farla o la sola esige trovare la cacca in mare la meraviglia della cacca in mare posso dirti che cosa mi piace molto questa risposta perché così andiamo in competizione anche con la rubrica cacca in discoteca di tintoria che loro dicono la cacca in mare cagare in discoteca qual è la spiaggia più strana in cui hai cagato tra l'altro sai che bello se escono titoli di giornale domani Nerone caga in mare di base il fumo forse perché comunque tutti vengono un po' il cazzo per la marijuana ma in realtà il fumo è più buono della marijuana voi siete due che comunque avete sempre fumato avete sempre apprezzato il fumo e l'erba come vi ha aiutato nel processo creativo o come vi aiuta nel processo creativo fumare o se vi aiuta che è una cosa anche questa è un po' citazione e tintoria però mi incuriosisce sempre questa cosa io non faccio un giorno senza carne veramente tanto cioè io ho fatto una settimana ricoverato in ospedale dove ho fumato comunque mi venivano a trovare i miei ah cazzo veniva Giordano veniva Giordano veniva a portartelo in ospedale sì non stavo così male potevo alzarmi fino al fuori bastardo ordinevo le pizze guardavo la Champions ok però ero impanicato perché non sapevano cosa potevo avere ma di base a livello creativo è una cosa che comunque influisce in maniera positiva sì perché spesso comunque abbassando un po' cioè alzando la soglia di sopportazione perché se ti colpisce di meno quello che succede magari rimbalza un po' di negatività da questo punto di vista sicuramente dall'altra io per esempio che comunque sì ho un consumo comunque elevato comunque ponderato dalla quantità di cose che devo fare se ho tante cose da fare o comunque se cerco di controllare di fare in modo che sia sempre alla portata lo utilizzo al pari del caffè o al pari di altre sostanze che assumo quotidianamente che mi servono per fare delle cose come mi serve l'arancia per le vitamine come mi serve ok se la capisco molto questa cosa mi serve anche questo nella dose giusta tollerata e che riesco a sopportare senza andare oltre veramente io sono fottuto ti è piaciuto questo viverlo in modo sano ti è piaciuto io sono fottuto completamente dipendente se non ce l'ho divento matto e te la vivi in modo un po' meno meno sereno di lui mi sembra ma in realtà avendocelo sempre la serenità ce l'ho però è mai stato un problema è un problema potenziale io non sono mai fatto che dico oddio sono troppo fatto devo smettere di fumare sì ma noi intorno a te sì le persone intorno a te però questo rimane un vostro problema comunque circuito a voi a voi stessi questo non è un podcast questo è un intervention che abbiamo organizzato l'unica roba che faccio allora mi sono scimmia so che fa ridere mi sono scimmia con la palestra ok sono partito sono partito a fine giugno dell'anno scorso perso tipo 25 chili e poi sollevo come un pazzo sono contento è un toro mi sono reso conto che non posso svegliarmi la mattina e farmi una canna e poi andare in palestra se faccio una canna non ci vado più in palestra o comunque ci vado non ho la forza per fare un cazzo quindi non lo faccio però non posso andare in palestra di pomeriggio quindi mi sveglio metto giù i piedi dal letto cago e volo in palestra subito caghi non diciamo dove ogni giorno tu vai fino in riviera tutte le mattine io cago mi sveglio inverto cago mi sveglio pulisco per dorme nel mare quindi in una ciambella lontano col culo solo il culo in acqua ho la pelle del culo vabbè non importa basta dai ti prendi ma perché voi come abbiamo detto siete milionari quindi tu hai questa cosa in casa cioè tu hai ho una vasca di acqua di mare dove caghi giusto per il gusto di cagare in mare sai quanto mi costa è un po' come i miliardari che si fanno tipo alla piscina con le onde dentro casa abbiamo anche delle tartarughe con dentro il naso delle cannucce ci piace togliere perché ci piace cagare in mare ma anche salvaguardare la fauna deve essere incredibile la flora la fauna faccio due canne le metto nel pacchetto e poi volo in palestra mi alleno esco da lì entro in macchina accendo la canna ma però digli che nome hanno premietto il premietto il premietto quello che mi spinge a dire dai ancora diciamo io la capisco un sacco anche io uso la palestra per cioè come abitudine positiva per drogarmi meno cioè per stare meglio a me fa bene e la uso perché non puoi fumare andare in palestra quindi ti fa un attimo controllare e le tue storie di te in palestra mi hanno motivato a tornare in palestra quindi volevo ringraziarti anche di questo ce la faccio io ce la può fare più ha spronato anche me che ci vado meno con le scarpe andiamo ogni tanto andiamo anche assieme ci capita di allenarci questo però ormai tira dei pesi inarrivabili 80 kg di panca piana gli cazzo sei action bronzo comunque ho insetto prima vabbè ci sta state prendendo un po' la cultura da palestrati o siete state riuscendo a rimanerne fuori zero io mi faccio la doccia a casa ok bravo bravo quella è la cosa che ti frega se cominci a farti la doccia in palestra poi cominci a dire bro devi spingere di più un giorno dopo zero che guarditi prima che mi dà un consiglio sul bicipite io mi faccio la doccia in palestra invece ma solo perché a casa non ho la doccia solo per questo ah perché tu hai solo la vasca ma di mare la doccia in palestra questo è un motivo anche di litigio delle volte lui mi insulta per il fatto che faccia la doccia in palestra dice che ho una percentuale gay non capisco se è il modo più carino che ha usato per dirlo io l'ho mai detto immagino che la tua frase non fosse l'essuale bellissimo che non è che nega ma non l'ho mai detto in un modo così politicamente corretto è assolutamente impossibile io sono tranquillissimo nel senso so benissimo di essere abbondante non me ne vedo ovunque tra l'altro quindi non mi interessa ok non hai problemi a farti vedere voglio dire fa parte del farsi la la doccia fa parte della della palestra per me ok ci sta mi piace però nessuno mi rompe il cazzo a me è parte della vita che è della palestra per me la doccia però vabbè per lui la palestra quindi la fa solo lì la faccio solo lì questa settimana non mi sono allenato infatti non mi state vicino meno male ci puoi mangiare sotto questa scella lo sai ci puoi fare un'operazione chirurgica va bene io direi che possiamo chiudere ragazzi grazie davvero di essere grazie a voi grazie mille c'erano ancora tante cose di cui avrei voluto parlare ma non possiamo ne faremo prima o poi magari faremo una parte 2 rivedremo volentieri dai ho venito a fare un roast esatto facciamo il roast il roast sto cercando di organizzarlo a parte gli scherzi quindi poi ne parleremo di quella roba lì perché è una roba troppo bella per non farla in Italia qualcuno la deve fare ma te lo rivebbe farla lo dico sempre tu non pensi che lo reggeresti bene? no no perché non è vero ma va poi questo che risponde sei finito ah beh posso rispondere questo è il roast allora fai vai alla fine per prendere una valanga di merda da tutti e poi alla fine gli hanno scritto questo monologo era incredibile il tipo l'ha fatto tutto perfetto era e ha spento tutti alla fine Tyson non è che saliva su ring con la consapevolezza che non lo avrebbero toccato appunto gli altri salivano con la consapevolezza che stavano andando comunque a dare un pugno a Tyson e io direi di chiudere con questa massima che mi piace molto e tu per mille euro daresti un pugno a Tyson per mille euro gli sparo a Tyson mille euro ha 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 ha